Buongiorno e ben ritrovati a questa nostra edizione del nostro telegiornale. Continuo a preoccupare la situazione emergenziale legata alla siccità. Oggi a Palazzo Delì una conferenza stampa. Questa è la notizia del giorno per voi. Continuo a preoccupare l'emergenza siccità che sta colpendo la Sicilia e il territorio di Trapani. La città intanto è a tutti gli effetti autosufficiente grazie soprattutto ad alcuni lavori fatti a Bresciana dove adesso sono attivi 17 pozzi su 18. L'amministrazione trapanese ha quindi pensato di indire una conferenza stampa proprio per specificare qual è attualmente la situazione dell'erogazione idrica a Trapani. Noi abbiamo lavorato duramente in questi mesi, abbiamo avuto anche il supporto della cabina di regia della protezione civile regionale che sia chiaro, investimenti che avevamo fatto con l'amministrazione in questi anni e possiamo dire che la situazione è sotto controllo. A giorni a treni riusciamo a distribuire acqua nel momento in cui è il doppio l'acqua che la città chiede perché c'è per fortuna nostra un'invasione di turisti. Abbiamo delle preoccupazioni e delle criticità in alcune zone periferiche che erano fornite dal sistema EAS Sicilia Acqua intendo le frazioni sulle quali stiamo cercando di tamponare. Dunque sotto controllo alla situazione il problema è la prospettiva. È perché io da amministratore pubblico non mi devo preoccupare di campare politicamente fino al mio mandato ma di far campare la mia comunità anche prossimamente. E siccome gli esperti dicono che da qui a 2030 rischiamo in Sicilia il 30% di desistificazione del territorio significa che prima o poi anche questi pozzi andranno in infarto. Anche le sorgenti dei pozzi andranno in infarto. Dunque a parte che io ne tengo qualcuno di riserva spento per adesso però mi devo preoccupare per il futuro ed è per questo che continuiamo a insistere in confronto della regione per dire investite sui dissalatori. C'è una risorsa immensa che non finirà mai che è quella del mare e che è l'unica che ci può in prospettiva salvare. Perché noi possiamo fare pozzi a destra, pozzi a manca poi alla fine la risorsa se non piove è molto contenuta e di conseguenza prima o poi i pozzi, scusa l'espressione, se la cantano. L'acqua è vita e quando manca purtroppo c'è anche malavita. Il sindaco Tranchida non si stanca mai di dire questa frase riportata anche oggi durante la conferenza stampa soprattutto dopo l'ennesimo atto di vandalismo a San Giovannello. Io stamani prima della conferenza stampa sono andato in questura a fare l'ennesima denuncia. C'è stato un tentativo di danneggiamento, finito bene, all'impianto di San Giovannello sabato mattina, nel cuore urbano, non al feudo di Bresciana lontano, decine di chilometri dagli abiti. Sarà stato un furto di rame? O un segnale? Noi andiamo avanti lo stesso, non solo facendo le denunce adottando i provvedimenti che possiamo adottare, confidando nell'impegno investigativo delle forze dell'ordine. Siccome l'acqua è vita, è vita per tutti, a nessuno è consentito di sottrarla all'interesse della comunità. Questo è quello che posso garantire alla sindaco. Ci vediamo dopo con tutte le altre nostre informazioni. Tragedia sfiorata a Trapani. Un razzo di segnalazione ieri sera si è battuto sul molo dove erano assepati i fedeli che attendevano lo sbarco della Madonna. Il comandante della Guardia Costera, un miracolo che non abbia colpito nessuno. La Sicilia è in preda al fuoco. Otto incendi ieri hanno devastato l'isola. In cenere diversi ettari di macchia mediterranea. La Madonna arriva dal mare, folla di fedeli ieri sera a Trapani per la rievocazione dello sbarco del simulacro che poi è stato accompagnato fino alla cattedrale a San Lorenzo. Zen bonificato, la società Rappa ha iniziato la raccolta dei rifiuti nel quartiere a rischio di incendi. Carriero e del Trapani, Granata hanno ufficializzato l'acquisto del centrocampista proveniente dal Cittadella in serie B. Erice website e virtual tour, presentato ieri il progetto digitale all'avanguardia per promuovere il turismo culturale. Nel Borgo ne parleremo nell'approfondimento di oggi. Ben ritrovati in studio con noi. In prima pagina la tragedia sfiorata durante lo sbarco della Madonna. Ieri sera un razzo è finito sulla banchina dove i fedeli attendevano l'arrivo del simulacro. Luigi Todero. Tragedia sfiorata ieri sera durante lo sbarco della Madonna di Trapani. Un razzo è finito sulla banchina dove erano assiepati i fedeli. Una serata di festa in onore della Madonna di Trapani. Per poco non si è trasformata in tragedia la rievocazione dello sbarco. Infatti ha registrato momenti di paura e tensione quando un razzo di segnalazione di quelli che vengono utilizzati in mare per indicare la posizione in caso di situazioni di emergenza partito da un'imbarcazione ormeggiata al porto Peschereccio è finito sulla banchina dove era assiepata dietro le transenne la folla di fedeli che attendeva l'arrivo della Madonna. Per fortuna il razzo non ha colpito nessuno. Si è però abbattuto su una rete di plastica vicino al distributore di carburante con il rischio di poter provocare un'esplosione. I militari della Guardia Costiera hanno individuato chi ha esploso il razzo. È già stato sanzionato, rischia però anche la denuncia. La magistratura, il pericoloso fuori programma, ha rischiato di rovinare una serata che ha fatto da richiamo, come da tradizione, a tantissimi fedeli che hanno invaso le vie del centro storico del capoluogo. Ieri sera, ha detto il comandante della Capitaneria di Porto, Guglielmo Cassone, la Madonna ha fatto un miracolo per una questione di centimetri. Il razzo non ha colpito nessuno. Ieri è stata una giornata infernale per la Sicilia. Otto incendi hanno colpito l'isola mettendo a dura prova vigili del fuoco, forestari e volontari della protezione civile. Non aiuta l'ondata di caldo che da settimana affligge l'Italia. Bollino al rosso ancora per la città di Palermo. In Sicilia la giornata di ieri è stata caratterizzata da una serie di incendi devastanti che hanno coinvolto diverse province dell'isola, richiedendo l'intervento congiunto di vigili del fuoco, forestali e volontari della protezione civile. Sono stati segnalati almeno otto roghi, con focolai che si sono sviluppati a Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina. A Catania gli incendi si sono verificati a Randazzo e Paternò, mentre nel Nisseno le fiamme hanno minacciato la zona di Campofranco. Nel Ragussano a Scicli la situazione è stata particolarmente critica con le fiamme che si sono avvicinate pericolosamente ad aziende ed abitazioni, richiedendo l'intervento di elicotteri per il contenimento. Anche nel Siracusano a Ferla e Francofonte i vigili del fuoco sono stati impegnati in operazioni di spegnimento, così come a Francavilla di Sicilia nel Messinese e a Campobello di Licata, nell'Agrigentino. Questo è solo l'ultimo capitolo di una serie di incendi che hanno colpito la Sicilia nelle ultime settimane, aggravati da condizioni meteorologiche avverse come il caldo intenso e eventi di scirocco, che hanno reso ancora più difficile il lavoro delle squadre di soccorso. Frattanto la protezione civile regionale ha emesso l'avviso numero 177 per rischio incendi e ondate di calore. Continua infatti anche per le giornate di oggi e domani l'allerta rossa per rischio di ondate di caldo, livello 3. Si prevede inoltre sia per oggi che per il 15 agosto una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi nelle città di Messina e Catania che rimangono in bollino giallo e Palermo che continua con il bollino rosso. Rimane invariato il rischio incendi, classificato di pericolosità media con un livello di allerta color arancione per tutta l'isola. Vottiamo pagina, proseguono nel Trapanese servizi straordinari disposti in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica d'intesa con i vertici delle forze di polizia e i sindaci del territorio. Lo scorso mese di luglio sono stati eseguiti 101 servizi straordinari che hanno riguardato nel capoluogo il centro storico ed in provincia i comuni di Alcamo, Castellamare del Golfo, Erice, Marsala, Mazzara del Vallo e Salemi. Effettuati 5.075 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari segnalate 40 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciato una persona per spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada sempre nel mese di luglio sono state accertate 631 infrazioni di cui 4 per eccesso di velocità, 17 per guida in stato di ebbrezza 4 per guida sotto l'effetto di stupefacenti, 69 per circolazione con assicurazione scaduta 23 per l'uso di telefonini alla guida, 55 per circolazione senza l'uso del casco 19 per circolazione senza cinture di sicurezza e 162 per circolazione con veicolo senza revisione Rilevati 56 incidenti Il numero di sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada nel mese di luglio sono stati 6 per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti 49 per circolazione senza assicurazione e 24 per altri motivi Nello stesso periodo l'ufficio patenti della prefettura ha emanato complessivamente 47 provvedimenti di sospensione Nell'ambito dell'attività amministrativa sono stati disposti 5 provvedimenti di divieto di detenzione armi Il nucleo ispettorato del lavoro del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro nel corso del mese di luglio ha sottoposto 31 aziende ad ispezioni 13 sono risultate irregolari I controlli hanno riguardato edilizia, l'industria, il terziario, l'agricoltura ed il commercio Le persone che sono state denunciate per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle aziende irregolari sono state 9 Nell'ambito dei provvedimenti relativi ai servizi per la tutela ambientale nel mese di luglio 4 persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti nei comuni di Erice e Paceco Per quanto concerne i servizi di prevenzione nei luoghi della cosiddetta muvida nei weekend del mese di giugno sono state controllate 77 attività commerciali a Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Favignana, Marsala, Mazzara del Vallo e San Vitolo Capo controllate 717 persone, 315 veicoli e contestate 176 infrazioni al codice della strada inoltre sono state elevate 13 sanzioni in particolare per violazione all'ordinanza ai sindacali Ora una piccola pausa per noi La Madonna arriva dal mare, folla di fedeli ieri sera a Trapani per la rievocazione dello sbarco del simulacro che poi è stato accompagnato fino alla Cattedrale San Lorenzo Zen Bonificato, la società Rappa ha iniziato la raccolta dei rifiuti nel quartiere a rischio di incendi Carriero e del Trapani, Granata hanno ufficializzato l'acquisto del centrocampista proveniente dal Cittadella in Serie B Bentornati con noi in studio Si è svolto ieri sera al porto Peschereccio la rievocazione dello sbarco della Madonna di Trapani Una lunga processione di barche con le luci che hanno spezzato il buio che avvolge il porto di Trapani Una dietro l'altra hanno solcato il mare procedendo a passo d'uomo senza fretta e con ordine E' stata questa la cornice suggestiva dello sbarco della Madonna di Trapani che si è svolto ieri sera al porto Peschereccio Un rito che si rinnova e che ogni anno suscita emozione, condivisione e coinvolgimento Ad attendere la Madonna arrivata con la moto vedetta della Capitaneria di Porto Una scelta questa che richiama ad un segno di pace e di speranza per i conflitti e l'immigrazione C'erano tanti fedeli che l'hanno poi accompagnata fino alla cattedrale Prima però un breve momento di preghiera tenuto dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli Che ha mandato un messaggio alla Madonna e a tutti i fedeli presenti Oggi sbarcano insieme madre e figlio sulle coste di Trapani Oggi li accogliamo con gioia facendo eco alla tradizione della nostra terra di marinai Ha detto Frannelli ai presenti Benvenuta Maria su queste rive, madre migrante e dono esplosivo dello spirito Grazie perché sbarchi ancora sulle nostre antiche comunità Benvenuta Maria, riporta la tua fede coraggiosa sul nostro territorio Liberaci da ogni paura, dalla paura di aprirci a noi stessi e alla nostra identità Dalla paura di aprirci a Dio che entra nella storia Con la rievocazione dello sbarco si entra così in eclu dei festeggiamenti Che culmineranno il 16 agosto con la precessione della Madonna di Trapani Per le vie del centro storico E adesso ci spostiamo a Palermo dove allo Zen ha preso via lo sgombro dei rifiuti Allo Zen la RAP ha iniziato ieri un'operazione di raccolta dei rifiuti Ma il lavoro da fare è ancora considerevole La situazione critica è aggravata dall'inciviltà di alcuni residenti Che continuano ad abbandonare legalmente i rifiuti soprattutto nelle ore notturne Oltre a questo il quartiere è ulteriormente messo a rischio dagli incenti Che convolgono spazzatura e rifiuti ingombranti Solo fino alla scorsa notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse strade dello Zen Per domare i roghi di materiali abbandonati La RAP sinceramente si sta dando da fare tanto Però ci vuole continuità Perché se non c'è questa continuità siamo di nuovo punte dal capo Anche su questa situazione dell'immondizia ci sono gli incivili che passano, buttano gli ingombranti e vanno via Ci sono stati tanti interventi dei vigili del fuoco in questi giorni Perché l'immondizia si è accumulata E qualche incivile ha dato fuoco all'immondizia Non sapendo cosa fa Loro la prendono come gioco A parte maggiore continuità dei lavori alla RAP Ti senti di lanciare un appello ai tuoi concittadini? Sì, certamente se vedo qualche persona che buttano degli ingombranti Magari di digli che non li devono gettare E ci sono dei punti di raccoglimento per gli ingombranti Oltre a questo ci sono ingombranti pericolosi Come stiamo vedendo qui c'è amianto Perciò l'amianto vengono a posto, buttano l'amianto e scappano via La politica al Consiglio Comunale di Trapani Nasce il gruppo consigliare del Partito Democratico Con l'adesione del Vice Presidente del Consiglio Comunale di Trapani Andrea Genco Si costituisce adesso il gruppo consigliare del Partito Democratico Il gruppo chiaramente continuerà a lavorare a sostegno dell'amministrazione Tranchida Un impegno preso dal PD già alle elezioni amministrative del 2018 Che continua ancora oggi A capo del gruppo in Consiglio Comunale ci sarà la consigliera Marzia Patti Che prende il posto di Giulia Passalacqua Esprimo grande soddisfazione Ha commentato la segretaria del PD di Trapani Assed di Pasquale Per la nascita del gruppo e la costante crescita del partito Sia in Consiglio Comunale sia sul territorio Do il benvenuto ad Andrea Genco Che aderisce ad un progetto fatto di idee concrete per la città Per cui sarà di certo un valore aggiunto La notizia dell'adesione al PD del consigliere Genco Era stata data qualche giorno fa dal deputato Dario Safina Che si era dimostrato orgoglioso di come il partito stesse crescendo bene a Trapani Genco aveva dichiarato invece Che la scelta nasceva dalla necessità di rinsaldare e rafforzare la maggioranza consigliare Il gruppo consigliare del PD infatti manterrà un dialogo costante e collaborativo Con il gruppo Rigenerazioni Europa Verde Formato dai consiglieri Angela Grignano, Giovanni Parisi e Baldo Camareri Unendo le forze, ha dichiarato Genco, potremmo costruire un futuro migliore per la nostra comunità E contrastare efficacemente le ingiustizie che minacciano il nostro paese In questo percorso sarà fondamentale migliorare l'ascolta e la comunicazione con i cittadini e le cittadine Che reputo sia un grosso limite che abbiamo manifestato finora Per gli appuntamenti sulla nostra emittente vi ricordiamo l'edizione serale del nostro telegiornale Alle ore 19.40 e replica alle 22.40 Domani invece 15 agosto come da tradizione trasmetteremo dalle ore 14 l'uscita della processione dei misteri Il giorno 16 a seguire il nostro telegiornale delle ore 13.45 Manderemo in onda l'entrata dei gruppi sacri A dopo con lo sport La pagina dello sport, il Trapani Calcio ha ufficializzato l'acquisto di Giuseppe Carriero Francesco Torrente per noi Dopo il primo successo stagionale in Coppa Italia contro la Cavese Il Trapani ha fatto rientro qui a Troina per concludere la preparazione estiva I Granata si sono allenati alternando sedute di corsa ad allenamenti specifici con il pallone Venerdì il rientro a Trapani, al provinciale Dove svolgeranno la rifinitura in vista della sfida contro il Monopoli di sabato sera alle ore 21 Valida come secondo turno di Coppa Italia Serie C I pugliesi hanno battuto a sorpresa per 2-1 il Foggia Alpino Zaccheria Sono gli ultimi giorni di calciomercato estivo per completare le rose Il Trapani è ufficializzato Giuseppe Carriero, centrocampista 26enne Che si aggiunge all'ampia rosa a disposizione di mister Torrisi Aggiungendo esperienza e qualità Per lui 31 presenze in Serie B con il Cittadella nella passata stagione In Serie C ha vestito le maglie di Casertana, Catania, Monopoli e Avellino Raggiungendo quota 146 presenze in campionato Condite da 13 reti prima di passare in catetteria con la formazione veneta nell'estate del 2022 Si aggiunge ad un reparto di centrocampo già particolarmente forte Con Caric, Carraro, Marino e Mastrantonio Oltre al riconfermato Marco Crimi È una piazza ambiziosa di cui ho sempre sentito parlare bene Ha dichiarato Carriero Sono stato qui d'avversario e ricordo un pubblico caloroso Sono sceso di categoria con l'obiettivo di risalire immediatamente Darò il massimo per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati Il centrocampista classe 97 ha raggiunto la squadra martedì pomeriggio nel ritiro di Troina E ha svolto il primo allenamento in Granata Nell'approfondimento di oggi andiamo a conoscere il progetto digitale Erice Website e Virtual Tour Un'esperienza immersiva e all'avanguardia per promuovere il turismo in città Ieri presso il polo museale Antonio Cordici di Erice è stato presentato il progetto digitale Erice Website e Virtual Tour Un'iniziativa innovativa che mira a rivoluzionare il turismo nella città Un progetto unico in Sicilia che utilizza tecnologie moderne per arricchire l'esperienza dei visitatori Offrendo una visione completa e interattiva del patrimonio storico e culturale di Erice In questo momento si promuove la cultura Sarà sicuramente un prodotto importante che noi possiamo promuovere alle fiere E anche questi visori multimediali ti hanno la possibilità di guardare dall'alto la nostra città Ed osservare quegli scorci che normalmente non si vedono E quindi questa possibilità ulteriore di allargare appunto il nostro orizzonte su questo territorio Un'opportunità anche per i nostri giovani di conoscere il nostro territorio Perché questo prodotto può essere facilmente accessibile e quindi promosso a settembre, ottobre Appena riapro le scuole perché è giusto che si conosca la nostra storia Erice d'altronde incarna proprio questo, questa anima ultramillenaria che vive il presente ma si proietta nel futuro Durante l'evento è stata illustrata l'importanza strategica di questo strumento per la promozione turistica Sottolineando il suo potenziale nel contesto fieristico nazionale ed internazionale Il progetto, realizzato da Ecubing SRL in collaborazione con l'architetto Ferla Finanziato da PNRR, integra tecnologie come visori VR e touchscreen Per esplorare virtualmente le bellezze di Erice Rendendone accessibili ad un pubblico più ampio, compresi giovani e diversamente abili Per quanto riguarda le tecniche utilizzate per l'Erice virtual abbiamo fatto delle scansioni con i droni Delle scansioni a terra e delle scansioni panoramiche dentro gli edifici In modo da poter offrire a vari livelli una vista interattiva Su prodotti che saranno fruibili sia in versione standard, quindi desktop, palmari Che in versione immersiva, immaginiamo l'utilizzo dei visori per le fiere Visori che sono stati forniti e che permettono grazie all'allestimento di una sala multimediale L'iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nella valorizzazione di Erice come museo diffuso E nell'adozione di soluzioni digitali per il settore turistico-culturale Erice Website Virtual Tour è un progetto innovativo, tecnologicamente innovativo Che permette di visitare Erice a 360 gradi Soprattutto da remoto Dunque da un portale, da un computer, da un app, da un telefonino Si potrà assolutamente vedere Erice a 360 gradi Sia i siti culturali, dunque il polo museale, la torretta Pepoli, eccetera Ma anche tutto ciò che è per Erice il cosiddetto museo diffuso Cioè il paesaggio, cioè i giardini del Balio, le mure limopuniche all'interno e all'esterno Insomma un percorso innovativo che permetterà soprattutto a chi vorrà vedere dal remoto Erice Di, fra virgolette, innamorarsi della città E magari pensare di venire a visitarla dal vivo Grazie a tutti